Immediata la richiesta dei soccorsi, le macchine erano accartocciate per recuperare i corpi, i vicini del poco hanno dovuto lavorare per ore, subito sono recuperati in ospedale tre arbalesi, per loro le condizioni sono gravi ma non sarebbero un pericolo di vita. Hanno mangiato pugni a torti nei bossi vicino alla loro casa, in provincia di Marcelli, ma alcuni erano veneno e mi vanno ammazzato. Sì, sì, è finita la tragedia, quello che deve essere un tranquillo passo in famiglia, è stato il codice di gattinare.